L'appuntamento con il corteo storico di Sant'Alessandro quest'anno salta, un'occasione per i turisti che è stata disattesa, nonostante molti l'abbiano aspettata e abbiano scelto Ischia proprio in questo periodo per il corteo. Ma come mai il Comune non ha preso in carico questa questione? La festa di Sant'Alessandro è un evento che non rientra in quelli organizzati direttamente dall'ente, ma dal Comitato di Sant'Alessandro che è l'ideatore di un evento che negli anni è cresciuto e è diventato davvero un fenomeno importante. Per cui ci tengo a precisare che noi siamo estremamente rammaricati che quest'anno la festa non si faccia. Allo stesso tempo mi preme sottolineare il fatto che come amministrazione, del resto come negli ultimi anni, ci stavamo spendendo per reperire le risorse necessarie, per coadiuvare l'organizzazione e il Comitato di Sant'Alessandro nel migliore dei modi e anche tutti noi dell'amministrazione ci siamo letteralmente messi al telefono per cercare le disponibilità nelle strutture alberghiere per i vari artisti che si sarebbero esibiti durante quella giornata. Detto questo, io ho colto probabilmente quest'anno una scarsa propensione da parte del Comitato a volerla organizzare davvero. Il Comitato ha lamentato la mancanza di fondi. Ma la mancanza di fondi è un discorso abbastanza complesso. La festa di Sant'Alessandro si è fatta anche senza che la pubblica amministrazione erogasse un solo centesimo per la festa. Noi da qualche anno a questa parte invece siamo sempre stati disponibili a fare sforzi anche importanti, mettendo a disposizione le cifre che ritengo considerevoli. Anche quest'anno, nel momento in cui stavamo approfondendo il massimo sforzo per andare incontro alle esigenze del Comitato, abbiamo appreso che si era deciso di non fare più la festa. Per cui sono ragionalmente certo che alla fine i fondi si sarebbero trovati e insieme saremmo riusciti a mettere in piedi la manifestazione degna della fama che si è costruita negli anni. Tra le pieghe del bilancio, delle risorse avanzate dal quadro economico della festa di Sant'Anna, stavamo mettendo insieme il puzzle e credo che alla fine ci saremmo riusciti tranquillamente. Mi sembra che invece si sia trattato di una scarsa volontà di volerla fare quest'anno la festa.